Ciao a tutti, cari telespettatori, vi do il benvenuto sul mio canale. Sono di nuovo qui con un bellissimo video. Dichiarazioni affascinanti sono arrivate da Engin Akiurek e Tuba Buyukustun. I fan che volevano che i due attori più famosi della Turchia stessero insieme sono rimasti delusi. In questo settore i rapporti tra Engin Akiurek e Tuba Buyukustun sono difficili. Cosa ci viene in mente quando sentiamo questa frase? Forse è una delusione per i fan che vogliono che l'attore turco più popolare stia insieme. Forse c'è chi tra noi pensa che questo settore non permetta davvero la loro relazione. Forse ti starai chiedendo cosa è successo tra le due persone che hanno pronunciato questa frase. In questo articolo ti dirò cosa devi sapere sulla relazione tra Engin Akiurek e Tuba Buyukustun. Engin Akiurek e Tuba Buyukustun hanno attirato grande attenzione sia in patria che all'estero come coppia che è all'ordine del giorno più con la loro vita privata che con le serie in cui recitano. La base di fan del duo ha conquistato una vasta comunità non solo in Turchia ma anche all'estero. I loro nomi sono Engin Akiurek e Tuba Buyukustun. Il punto in cui sono diventati improvvisamente una star. Il punto in cui le star della serie hanno iniziato con la serie e hanno continuato con amore. Dopo la fine della serie, circolavano sempre voci secondo cui questi due erano innamorati. E hanno lasciato la serie. In seguito, sono rimasti all'ordine del giorno con la loro vita privata. Tuttavia, non ci sono state dichiarazioni da parte di Engin Akiurek e Tuba Buyukustun riguardo alle voci d'amore riguardanti la loro vita privata. Engin Akiurek e Tuba Buyukustun, la nostra coppia che ha fatto dichiarazioni confuse e interessanti, non ha né confermato né smentito le accuse d'amore con le loro risposte interessanti. E continuiamo a presentarvi tutte le innovazioni e gli sviluppi finora avvenuti nella vita privata della coppia. Con il vostro affetto, condivideremo con voi le novità sull'argomento. Restate sintonizzati. Arrivederci.